Qui nella Roma abbiamo il nostro idioma materno di papiamento e mi tengo da un papien, una tutta docente di papiamento, del Departamento di Cultura, da Harai Egaroshi arriva il tema qui e Stanley si davano di me, papien tambi. Come docente di papiamento nella trayectoria di me, mi tengo da vista che mi sta elogion, applaudi e ho fatto che il nostro idioma di papiamento si sono entrato nella tua scuola e che ho raggiunto e che ho fatto un metodo cristale con un differente tipo di scuola, la insegnanza avanzando e la vira del veicolo per noi, giovani, studenti, sia il buon uso del idioma qui. Ok, qui che ti ha detto, Frau, su opinion riguardo la parola guacchiendo e come te lo vado a usare? Wow! Mi tengo da una mia opinion personal di esatti come docente di papiamento. Si nos mira nel nostro vocabulario e nel nostro liste di parola, papiamento, mi chiamo come esempio di un verbo, verbo non. Si il papiamento non c'è un verbo non, che consiste in 4, 3, 2, 2, 1, si la va, mi ti pare che il ultimo gruppo a qui, che non si chiama non monosilabico. Una holandese lo dice un letto 3. Come esempio, mi tomo 4 o 5 verbo. Mi ti cominciamo con il verbo wacch, non si è verbo scop, non si è verbo dal, non si è verbo ferv, non si è verbo frey. E in gramatica, non si è verbo che non si chiama aspecto di gerundio, come ti explica ora un persona che si sta occupando facendo algo. Come esempio, mi tomo un'altra persona che si è verbo con la sua bala, tanto su mamma ti amé. E non lo avisa, mi sta scopiendo la bala. e il vicino, che è verbo su casa, e non sta fervendo in muralla, non è casa. E il pareggio, non sta freyendo, sorry, con il altro, non sta frey. E mi chiamo, mi ti cominciamo con la sua bala, e il vicino sta fervendo su casa. Il verbo wacch, mi ti ha un tiquito, lo è pareggia. Mi ha escuchato, e uso aquí, di un cammino in la sala, di uacchiendo. Pues mi ti ha un'altra quadra, di un verbo, come mi ha menzionato, acaba, con un verbo, con un'excepcion, come un'nota usa, e gerundio. Si da considerare, che la parola, che vuoi discriminare? Mi noto considerare, un'discriminazione, di un'ideoma, però, è un'excepcion, come un'nota usa, e gerundio, con un'nota, gramaticalmente. E non sta correcto, se da, mi opinion personal, come papiamentista, docente di papiamento. come un'nota uso, Grazie.